Il filo logico del discorso, mangio una bistecca, li prendo a pugna e li faccio ridere. E poi hai dimenticato la parte importante, poi tu li affetti. Allora, aspetta, tira fuori la Ubersho. Premi G. Ok. Ah, devo fare una sound? Devi fare quella, devi fare quella. Oh mio Dio, ti stai chiedendo un po' troppo. quando no 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 scoltami, scoltami, madi guardami nei giochi ce la possiamo fare ok, andiamo ok ok oh mio dio, vai! vai, vai, ci siamo ci siamo si no no allora non mi affare mai no, no no, non voglio sentirti dire queste cose vabbè, non è il po' Anche perché tanto non finiamo questa sezione finché non abbiamo almeno fatto una volta. Ho giocato oggi 20 minuti e ho provato un pochino da solo e l'ho fatto due volte. E tipo adesso non è possibile che anche col pocket medic non riesco. Dove sei? Sono dentro casa nostra, pieno a terra. Io invece mi sono messo da fare un gran studio, un po' gioco. Ah no, che bello, mi sono vendicata. Ok, ciao. Allora, perché sono morto? No, non so. Allora, sì che sono morto. Ma sei qua, ok. Andiamo, 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 andiamo. Ce l'hai? Ce l'hai? No, non ce l'hai del 7%. Ma Uber, no, non ce l'ho. Cacca! Sei viva no? Si, sei viva! No, no! Stavo fai la mista e la mista e la mista e i pertarra e la perdarra! Grazie a tutti! È tanta miseria, ma... Questa è glit... Dai! Oh, WTF? hai ucciso il piccio è veramente pro poi quando ha detto che cominciavano a prevenire la tua compagnia stai qui stai qui pazza segui il piano devi seguire il piano l'ho visto che c'era la spia che cavolo ok c'è qualcuno che mi sta chiedendo qualcosa in chat in russo e non mi interessa non mi digli non è che solo perché il gioco evita tutto russo basta madonna la cosa che c'era? aspetta che lo devo usare eh certo poverino oh 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 che carino no no si 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 aspetta sono caduta dalle schiale ah ma che cosa sta facendo? sono triste oh no no è un aurello che mi segui tu ahahahahah ahahahah ok ho deciso prova un buon server a double cross è stata la prima mappa in cui ho giocato ed è stata un trauma double cross va bene vedi che diventerà invece adesso è un ricordo gioioso ah ok ok non dire niente non dire niente non dire niente non lo so allora no vorrei solo far notare non ho ancora mai colpito un nemico con un critico perché se no avrebbero riso quindi vuol dire tipo scusate c'è un critico ogni 100 colpi una roba così evidentemente ho fatto più di 100 colpi non è mai successo una volta quali cosa non vale oh mio dio ce l'ho fatta e tu non ci sei ovviamente oh oh no no cosa è scamming ma cosa ma non è vero ma cos'è perché siamo bannato no ma a te vogliono kiccarti per tuffa oh vuoto basato ma scuola ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah per verlo ma ma io ho fatto oh no 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 aspetta oh la causa ufficiale era per tuffa però adesso il tizio che ha chiesto il voto dice sono un demolitore e non mi aveva mai curato quando avevo 52 punti vita if mandala a fare in cura e invece ha curato cecchino ok allora aspetta no che brutta serata questo perfetto ahahah non capisci come non capisci? ma guarda che è una cosa brutta essere chiccati fuori dal video tu ti consulti un po' chi ti ha chiccato ah no aspetta ancora qui aspetta allora faccio un voto per chiccare lui chiedi se uno è arrivato al punto di chiamare un voto è in genere perché c'è una ragione seria ed è chiaro che tu non l'hai visto perché ahahah il voto è passato l'hanno chiccato è stato proprio stronzo eh dai dillo che è stato stronzo ho chiamato il voto per chiccare lui l'abbiamo chiccato e poi il tipo ha scritto lol in chat ahahahahah ok uno della nostra squadra diventa merito ma non è che sei una spia che è per caso ah ma guarda sono io cioè non hai visto che c'è no ma questa spia morta la vedi? si e che cavolo stavi facendo tu? l'obiettivo è che vince è un giro sculato no 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 è un duello è un duello quindi contano solo le decisioni che tu fai su di me e quelle che io faccio su io ok? ma no si 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 se ti vuoi accanire su di me eh? si 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 aspetta un momento no 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 si si o no no se si si bastardo non vedipermette ci vuole per te mordi subito no no sono ancora viva ci vuole che? si ma è rosso le gambe male, io già devo concentrarmi a prendere la bia perché volete guardarmi più intorno la cosa che diventando è che non sto facendo niente, però sto sopravvivendo più di non so quanto poi non sto facendo nulla sei una sfiglia? si starei andando in giro sempre completamente invisibile solo per non partire una zappa assolutamente no sei tu, ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah allora il duello per mano Tu sei Serre Pyro? Sì, però non dovrei essere Pyro, è meschino. Non ti preoccupare, tanto se riesco a uccidere qualcun altro prima di capire la partita è un miracolo. Ok, sono il demolitore incompleta tenuta da Demonite. La spia è particolarmente forte come classe se sai le strade secondarie. No, 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 vabbè. Torrico, se conosci. Ciao, Giorgia. No, non ti permettere, lasciami in pace. Giorgia? Giorgia? Dove sei? So che sei qua. Sono fuggita. Ah, codarta. Secondo me, vuoi prendertela con quest'angi. Sei morto? Sei morto? Sì. Però per mano di un altro, Domo, non sei morto? Sì, 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 no, non sono io, non sono io. Arriva sempre troppo tardi, che ti devo dire? Anche perché tu sei la mia energy. O sono io che arrivo troppo tardi, oppure sei tu che muori troppo in fretta. Esatto, vedo che hai già capito. Io muoio a costa per non farmi be... Sì, ma tu pensi che io abbia abbastanza riflessi da riuscire a pugnalarti prima che tu ti accorgano? Beh, devo dire che effettivamente prima hai guardato tutta la mia animazione della sciabolata e non mi hai sparato in faccia, cosa che avresti potuto ampiamente fare. No, no, non mi pareva solo lei. No, avresti dovuto, me lo saremmi ritratto. Non sapevo neanche che fossi tu. Io si sapevo che eri tu. No, mi dispiace. No, no, ma non lo sto dicendo per te, lo sto dicendo per me che sono stato molto scorteso. Perché non sono riuscito a uccidere nessuno e poi la prima persona che ho uccido dopo venti minuti sei tu. No, non ti credo mai non so cosa fai io però. Oh, è vero. Non mi hai ucciduto tu. Dai, mi devi uccidere almeno una volta. Ops, ops, ops. Sì, mi sto divertendo così tanto. Sì, mi sto divertendo così tanto. Wow, ho fuso la chia, questo è il critico. No, no. Oddio. Edù? Oh mio dio sto morendo. Sto provando. C'è una piccola soddisfazione personale, anche se è un colpo quindi tipo di stadio andando a fuoco. Te lo sei completamente meritato, direi che la coppa aspetta te questa sera. Rispetto ai tempi in cui andavamo in giro a mangiare bistecche e a morire, direi che siamo cresciuti, siamo maturati, siamo cambiate tante cose.